Il Presidente della Repubblica Italiana, ossia Sergio Mattarella, sarebbe risultato positivo al Covid, si sarebbe sottoposto ad un tampone che quindi sarebbe arrivato alla rivista notizia, positivo al Covid, sarebbe stato questo l'esito del tampone in questione e sarebbe risultato positivo, quindi verranno a essere rinviati tutti gli impegni che poi Mattarella ha nel prossimo futuro, non ha nulla a livello di salute, nel senso che è un asintomatico, come si legge sul web, quindi non ha, diciamo così, febbre, stanchezza, maddigola, tosse e via di seguito, semplicemente in una condizione di piena asintomaticità, che così può essere detto o meglio descritto. Bene, complimenti dunque a Sergio Mattarella, il nostro amato Presidente della Repubblica, auguri di pronta guarigione a lui, ovviamente perché si spera che guarisca quanto prima, anche, ripeto, seppure sia sintomatico, iscrivetevi al canale, narratore italiano, commentate, questo video non vuole leggere la privacy di Mattarella e di altre persone, ma soltanto informare eventuali esseri umani. Ciao da Vosso Reandro, il narratore italiano.